3 minuti, 3 minuti 4 minuti 5 minuti, 4 minuti Saludiamo con un gran applauso Naomi Osaka! Kyo Zen è nata l'8 ottobre del 2002. Nel 2022 ha avuto il suo primo titolo da protini di 125 a Valencia. Nel 2023 è diventata la quinta tenista cinese ad entrare a far parte delle prime eventi del mondo. Sempre sul nostro istante si è giudicata il WTA di 50 di Valencia. Nelle prove del Grand Slam si è scritta fino alla finale degli Australia Romp e Costani, seguita da quale tradito l'attuale settima posizione della calcifica mondiale. Attualmente a punto numero 7 della calcifica WTA, signori e signori, salutiamo con un gran applauso Kyo Zen! Grazie! 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 Grazie!